Ne parleremo, vorrei tornare dall'Avvocato Doria, abbiamo sentito la parte sindacale, la parte dell'associazionismo, c'è una situazione della sanità in provincia sicuramente non facile e in questo contesto, magari non è una giustificazione, però potrebbe essere facile, magari commettere anche degli errori, però sappiamo che qua è in gioco la salute di tutti noi e non dovrebbe per nessun modo avvenire, però i dati ci dicono che purtroppo spesso gli errori in ambito sanitario che vanno a colpire poi gli utenti crescono e diventa un fenomeno molto preoccupante. Lei su questo è uno dei maggiori esperti qua sul territorio della provincia di Frosinone e innanzitutto cosa possiamo dire per analizzare questo fenomeno degli sbagli che vengono a volte anche per quanto riguarda gli interventi chirurgici? Beh, io innanzitutto ci teniamo a precisare una cosa perché come sempre succede in Italia a volte quando ci sono degli eventi che vanno a toccare l'animo del popolo sorgono delle polemiche che però praticamente ci allontanano poi dalla realtà, no? Quindi, allora, l'ambito della responsabilità medica, io mi occupo di responsabilità medica quindi sostanzialmente vado, sono un tecnico, vado ad intervenire per la tutela civile e penale delle vittime di responsabilità medica. Questo che cosa significa? Che chi fa il mio lavoro è contro i medici? Sì, assolutamente no, perché c'è stata tutta una polemica in periodo Covid per cui degli avvocati, diciamo così, del Nord, forse effettivamente andando un po' a calcare la mano con poco buonsenso si erano pubblicizzati per, diciamo così, prendere cause contro le strutture sanitarie per le persone, a favore delle persone che erano state infettate. Allora qua è una materia nella quale dobbiamo trovare un equilibrio. I medici svolgono un lavoro assolutamente nobile, fondamentale, perché è a tutela di uno dei diritti fondamentali sanciti e tutelati dalla nostra Costituzione, dall'articolo 32, il diritto alla salute. Allo stesso tempo però dobbiamo distinguere perché ci sono i casi di errori. Come ripeto, la maggior parte, a mio avviso, di questi errori che si vanno a verificare si verificano per delle carenze di carattere organizzativo che poi portano sostanzialmente i medici, ma anche in generale gli operatori sanitari quindi gli infermieri, i tecnici e quant'altro, a non lavorare bene e se non si lavora bene... Soprattutto concentrati. Concentrati, assolutamente. Diceva prima la signora sindacalista degli anestesisti. Ebbene, gli anestesisti... Roccatani. Roccatani. La dottoressa Roccatani ha ragione, parlava degli anestesisti, no? Che sono una categoria assolutamente emblematica. Cioè l'anestesista deve stare in sala operatoria, deve essere lucido. Non si può operare nulla dall'appendicite all'operazione a cuore aperto, da quelle più semplici a quelle più delicate e complesse, senza l'anestetista. Se ci sono pochi anestetisti, sostanzialmente si rischia che questi non riposino adeguatamente. Noi sappiamo che anche nell'ambito del diritto del lavoro, no? A seconda della tipologia di lavoro che si fa, c'è bisogno di un certo periodo di riposo perché è commisurato al tipo di attività che fa. Ad esempio il vigile del fuoco non può fare turni di 12 ore e non riposare perché può essere chiamato a fare un intervento delicato. Lo stesso avviene a maggior ragione per i medici. Avviene per i medici. Poi c'è anche un altro discorso che io volevo affrontare, anche questo qua di carattere prettamente tecnico. Cioè per che vengano tutelati i pazienti è previsto che questa possibilità di avere un risarcimento non resti una lettera vuota. Cioè la legge Gelli, vale a dire la legge che ha riformato tutta la disciplina in materia di responsabilità medica e di diritto sanitario, che è entrata in vigore il primo aprile del 2017, prevede un obbligo specifico, cioè quello a che le strutture sanitarie contraggano una polizza assicurativa che possa poi andare a coprire i danni subiti dai pazienti. Ebbene però, come ripeto le cose un po' all'italiana, è previsto l'obbligo ma non è prevista la sanzione per il caso in cui l'obbligo non venga rispettato. Ad esempio, per quanto io ne sappia, la ASL di Frosinone non ha contratto questa polizza assicurativa. Quindi che cosa succede? Succede che sostanzialmente il danneggiato o i parenti delle vittime, perché ci sono anche dei casi purtroppo ancora più gravi del danno, cioè si parla di danno fatale, quando vanno a chiedere il risarcimento o la ASL provvede con il proprio bilancio, oppure bisogna accedere ad un fondo di garanzia previsto sempre da questa legge Gelli per il caso in cui la struttura sanitaria non abbia contratto l'assicurazione ed è un fondo di garanzia.